E' ufficiale, Marsiglio ha sottoscritto l'ordinanza tramite cui da lunedì permette la riapertura di molte delle attività produttive abruzzesi. Il vademecum è chiaro, evitare assembramenti, igienizzare frequentemente e indossare la mascherina, senza la quale non si potrà accedere ai locali pubblici. Nei luoghi chiusi, area condizionata spenta, così da evitare la diffusione di agenti patogeni. Settimana prossima riapriranno parrucchieri, estetisti, tatuatori, mercati e negozi, per i quali però non c'è l'obbligo di sanificare gli abiti e le calzature provati. Riapriranno anche ristoranti agriturismi, qui occorrerà prenotare, i tavoli dovranno essere distanziati di almeno un metro, non ci saranno i guardaroba e si consiglia l'utilizzo di condimenti monodose. Lunedì aperti anche bar, pub, enoteche, birrerie, pasticcerie e gelaterie, così come i campeggi, dove tende e camper dovranno essere distanziati. E si potrà anche andare al mare. Negli stabilimenti balneari è consigliata la prenotazione, ogni ombrellone dovrà avere 12 metri quadrati a disposizione e l'accesso alle piscine sarà limitato. Per quanto riguarda le spiagge libere, invece, ogni comune potrà organizzarsi come meglio crede per garantire le misure di sicurezza, per le quali l'ordinanza non esclude convenzioni con soggetti pubblici e privati. Insomma, strada spianata verso la privatizzazione delle poche spiagge libere rimaste. Riapriranno anche gli alberghi, nei quali le stanze dovranno essere sanificate alla partenza di ogni ospite. Le strutture extra alberghiere e i bed and breakfast, invece, saranno a disposizione solo di operatori sanitari e di altre maestranze connesse all'emergenza. E mentre riapriranno anche le chiese, vi è ancora lo stop per le sale gioco, i centri scommesse e i bingo. Ci si potrà spostare su tutto il territorio regionale alla ricerca di funghi o per la caccia e ci si potrà recare nelle seconde case, ma solo dal venerdì alla domenica.